in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Siamo a Salorno, dietro di noi quello che rimane di Castel Haderburg, costruito ben nove cento anni fa dai conti di Salorno, oggi gestito da Roman Perfler, grazie al quale riusciamo a fare un tuffo nel passato. Io sono qui in questa merda di Harderburg, per una migliorata atmosfera. con la filosofia la facilità la facilità anche la harmonia la gente e la natura all'estas è un'ottima in una buona ma spettacola che viene qua alla Haderburg tra la atmosfera medievale e anche la semplicità. La semplicità è fatta dall'armonia fra l'uomo e la natura e questa forza si sente in questo castello. La mia filosofia affonda le radici in questo esempio, questa pianta cresce con poca terra e questa roccia. E anche noi, uomini, dobbiamo imparare da questo esempio, vivere con la semplicità. Meine filosofie sieht man aus dieser Pflanze, die aus demnichs herauswachsen. Auch wir Menschen müssen von diesem Beispiel lernen. Der Mensch kann auch mit sehr wenig glücklich und zufrieden sein. Südtirol ist in vielerlei hinsicht der Himmel auf Erden. Die Harderburg und die Philosophie von Roman Perfler sind ein Paradies. Ci sono molti posti in Alto Adige che sono in cielo in terra, ma la filosofia di Roman qui a Castella Harderburg è un vero Paradiso. Alla prossima con 2M al Quadrato. La Fondazione Cassa di Risparmio Di Bolzano Ci vediamo la prossima puntata di 2M al Quadrato con Birra Forst. Buona perché ha sempre vissuto qui.